ciao amici d'italia top games buongiorno buongiorno giovedì 26 agosto un giorno importante perché oggi 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 arriva il video gamescom di e football che ci auguriamo mostri molto 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 sul gameplay e su tante altre cose l'orario non lo sappiamo ma secondo noi manca poco e manca poco che comunque oggi arriva oggi arriva giovedì 26 agosto comunque anche oggi andiamo avanti con le novità di pes 2021 la prima è che l'esp da oggi sarà sempre moltiplicata per 5 nelle partite di my club da qui fino al 31 dicembre il 2021 cioè quindi fino a fine anno e quindi come dire speriamo che fra qualche mese giocheremo ad e football e non a pes 2021 poi ci sono le con il bayar monaco che andiamo a vedere a brevissimo e poi ci sono i giocatori della settimana con ami international cup lo sapete giocatori nazionali lì ci sono anche i top 11 gli europei ma quelli li abbiamo visti lunedì sto vedendo l'englet lautaro martin e zummels ma adesso li andiamo a vedere in dettaglio prendiamo i 300 punti i football oramai sembra proprio che di di preparatori di di nuove icone non ne arrivino ad agosto non ne sono arrivati non credo che questo succederà a settembre comunque teniamo sempre d'occhio anche questa zona allora eccoli qui le icone del bayar monaco due sono eccezionali la terza un po meno convincente perché stiamo parlando di canna portiere 94 19 livelli di crescita forma fisica 8 su 8 comportamento pt 99 presa pt 98 respinta pt 98 riflessi pt 98 estensione pt 99 potenzi di 95 io ragazzi al di lanchi di questa versione icon che super strasuper a me piace molto come portiere canna devo dire l'ho usato poco quest'anno perché non l'ho trovato alla fine ma leggo invece tante critiche nei suoi confronti che onestamente non mi sono chiare quindi i detrattori di can si facciano avanti e ditemi perché non vi piace canna poi vabbè c'è levandowski versione base e poi c'è beckenbauer anche lui 19 livelli di crescita forma fisica 8 su 8 potenza di tiro 95 comportamento difensivo 94 recupero palla 93 passaggio verso terra 94 passaggio al 92 io ragazzi devo dirvi che per quanto mi riguarda france beckenbauer su pes 2021 è il mio difensore centrale preferito ce l'ho in versione le adesso mi ricordo su pc sera icona o leggenda ma comunque è un giocatore per me eccezionale miglior difensore del gioco se lo volete sapere e poi ecco questa terza icona invece lascia un pochino più a desiderare perché elber con 23 livelli di crescita forma fisica 6 su 8 però onestamente come icona non è che mi faccia proprio impazzire comunque comportamento offensivo 91 finalizzazione 90 potenza di tiro 88 colpo di testa 85 due icone sono me straordinaria la terza come vi ho detto mi convince molto molto meno ecco i giocatori della settimana allora c'è l'englet 92 27 livelli di crescita forma fisica 5 su 8 6 punti in più in comportamento difensivo 6 punti in più recupero palla 6 punti in più in colpo di testa più 3 in vari aspetti un difensore centrale interessante indubbiamente lautaro martinez 29 livelli di crescita forma fisica 7 su 8 comportamento offensivo più 3 controllo palla più 7 dribbling più 3 finalizzazione più 7 velocità più 3 accelerazione più 3 potenze di tiro più 7 una punta interessante non il top del top ma decisamente un punto interessante soprattutto un 29 livelli di crescita un melz 21 livelli che sia forma fisica 7 su 8 comportamento offensivo 99 passa più 5 passaggio alto più 6 97 colpo di testa più 3 96 passaggio alla sotterra più 3 90 contatto fisico più 3 insomma un signor difensore che però di una lentezza estrema betancourt centrocampista della juve livello 1 su 30 e dell'uruguay ovviamente forma fisica 7 su 8 controllo palla più 5 passaggio stretto più 5 passaggio alto più 6 passaggio la sotterra più 5 aggressività più 8 potenze tiro più 5 contatto fisico più 5 resistenza più 5 centrocampista di buon valore assolutamente in questa versione potenziata froiler atalanta centrocampista 22 livelli di crescita forma fisica 6 su 8 passaggio la sotterra più etto passaggio alto più 8 comportamento offensivo più 5 recupero palla più 5 aggressività più 8 resistenza più 5 potenze di tiro più 5 anche lui un centrocampista interessante con 22 livelli di crescita isaac svedese 38 livelli di crescita forma fisica 4 su 8 comportamento offensivo più 10 e questo penso che sia il l'aumento maggiore che abbia mai visto finalizzazione più 10 92 velocità più 6 potenza di tiro più 10 contatto fisico più 6 resistenza più 6 credo che sia nettamente il giocatore più super saianizzato nella storia di pes perché 2 più 10 io non me li ricordo anzi 3 più 10 potenza di tiro comportamento offensivo e finalizzazione io non mi ricordo un giocatore così pompato nella storia di pes 2021 diego iorente difensore centrale 89 25 livelli di crescita forma fisica 4 su 8 più 8 in colpo di testa più 8 in comportamento difensivo più 5 recupero palla più 5 in elevazione più 8 in contatto fisico più 5 in resistenza difensore centrale interessante ma non mi fa impazzire miran giù catalanta 29 livelli di crescita forma fisica 5 su 8 dribbling da 83 91 più 8 passaggio stretto possesso stretto scusate più 8 da 79 87 velocità più 5 potenza di tiro più 5 passaggio verso terra più 5 aumenta è un giocatore interessante indubbiamente sorlot norvegese 30 livelli di crescita forma fisica 4 su 8 aia comportamento offensivo più 5 finalizzazione più 8 colpo di testa più 8 velocità più 5 accelerazione più 8 potenza di tiro più 5 elevazione più 5 contatto fisico più 5 ma si 30 livelli di crescita ma 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 anche no bravo bravo portiere 87 18 livelli di crescita forma fisica 3 su 8 mamma mia comportamento offensivo più 10 presa pt più 10 respinta più t più 7 riflessi pt più 10 e fa concorrenza dunque ad isac come giocatore più super saianizzato di sempre estensione più t più 8 bellingham 68 livelli di crescita ma penso di non è ormai visto anche qui è un è un è un over perché veramente un 68 livelli di crescita non me li ricordo può essere che è una mia mancanza e voi vi avete qualche giocatore con 68 livelli di crescita comunque lui fa più 8 in possesso stretto più 8 in aggressività più 5 in controllo corpo più 5 in tanti altri parametri e basta ragazzi oggi non giro perché onestamente non c'è nessun giocatore che mi faccia battere il corazon quindi siccome sono rimasto a poche monete per questi ultimi aggiornamenti di agosto e di settembre con queste mie 110 monetine oggi non giro e poi dai oggi arriva il trailer di football siamo concentrati lì d'accordo queste quindi sono le novità di oggi di pest 2021 iconic moment campagna avvenzamento punti esp per 5 rispetto al normale da qui fino alla fine dell'anno soprattutto per i nuovi giocatori è molto importante ma anche per chi gioca da tempo giocatori della settimana nazionali 26 agosto 2021 li abbiamo appena visto con vari giocatori super saianizzati e basta ci aggiorniamo a prestissimo sicuramente oggi per il trailer gamescom di football vi ringrazio l'attenzione se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo subito se volete potete anche abbonarvi da 99 centesimi al mese sono 3 centesimi al giorno ragazzi niente ma ci date un supporto sia morale che che concreto alle nostre esigenze tecniche di manutenzione dei server di gestione dei server eccetera eccetera oppure potete anche fare acquisti su amazon passando per il link affiliazione che trovate nella descrizione del video se non lo trovate basta scrivermelo e un fabrizio mi dai il link di per per fare acquisti di amazon e supportarvi e io ve lo giro all'istante grazie ancora per l'attenzione e davvero ci siamo ci siamo con il trailer gamescom di football oggi giovedì 26 agosto arriva quindi rimanete sintonizzati come arriva arriva la notifica e quindi a mettete tutte le notifiche che arriverà prima dalla community per il trailer e poi per gli approfondimenti direttamente con i filmati adesso è davvero tutto ciao